l'ho fatta insieme perché se non mi casca tutto il latte ce l'ho fatta ve l'avevo detto non l'ho una cosa la voglio la ottengo il regen della tazza buongiorno un cazzo detto questo una marea di mi piace solo per questo una marea di mi piace volete sapere dove l'ho trovata magari ve lo dico alla fine verso la fine del video forse non è cascato neanche un goccio di latte il vento annati e ben ritrovati devo fare pure attenzione tra l'altro devo ricomprare il coso come si il coso questo che c'ha la luce che ci ha attaccato il telefono perché non regge più se è un po' sparacchiato e praticamente il telefono tende a cascare in avanti quindi oggi sarà un video proprio di quelli spartani in una maniera di quelli esagerated buona cagata perché tanto ho capito stato a guardare il video mentre cagate volete il cioccolatino volete aiuto a andare al bagno prendete 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 non ci fate i complimenti prendete non me va mi piace supportare i miei contenuti iscrivetevi attivate la campanella così varia sempre la notifica quando pubblico qualcosa ho due canali youtube dove parlo di calcio canali in descrizione in infobox come sempre compariranno durante il video qui allora non so da dove partire perché in realtà è tanto che non faccio un contenuto di questo tipo qua forse sono passate tre settimane o addirittura un mese in tanti però parto da questo in tanti lo avrete notato su questo canale fino a un mese e mezzo fa pubblicavo contenuti tutti i giorni un video al giorno da un mese e mezzo a questa parte sto pubblicando un video a settimana o anche meno dici per quale motivo che è successo avete avrete capito che sto bene che è tutto ok ma è una cosa che ho deciso di fare volutamente per rallentare un po i ritmi per staccare la spina per ricaricare anche un po le pile in vista anche della nascita di mia figlia prevista all'incirca tra il 20 e 27 gennaio manca una pesata praticamente e in vista dei tempi insonni dico sapete che c'è fammi un attimo rallenta i ritmi il calcio i mondiali e via dicendo ok in realtà sul primo canale sono stato attivo come sempre però ho detto magari ecco i canali secondari rallentiamo un attimo c'è sempre tempo per ripartire a manetta la mia intenzione su questo canale non è subito di ripartire con video al giorno voglio aspettare non lo so devo ancora decidere onestamente però voglio tenermi ancora un periodo di relax tra virgolette il mio il mio il mio lerax il mio relax non è smettere completamente di lavorare ma rallentare e ovviamente quando nascerà mia figlia riprenderò diciamo una linea sono un po stravolto da quelli che saranno gli eventi quindi poi quando capirò il tempo che giustamente mi toglierà allora poi ecco proporrò diciamo la programmazione più più lineare però mi ha fatto veramente bene rilassarmi sto molto meglio onestamente sti giorni che ha finito il mondiale mi sono rilassato ulteriormente e ne ho approfittato ancora di più in realtà mi sono anche imposto in questo mese e mezzo in realtà da quando è finito il campionato di serie a da quando si è fermato di dormire almeno un'ora in più a notte veramente ho detto devo mi sono abituato adesso dormo un'ora in più sono arrivato a dormire anche sette ore certe volte otto un paio di settimane fa addirittura ho dormito nove ore e è una terapia che mi sta facendo veramente bene per il mio stato psicofisico detto questo mi avete chiesto anche aggiornamenti sugli allenamenti chi non è attento su questo canale qualcuno mi ha chiesto aggiornamenti chi non mi segue su instagram ecco non lo sa ovviamente chi mi segue su instagram sa che mi sto allenando con molta o quasi regolarità perché poi c'è stata una settimana di pioggia forse pure nove otto nove giorni altro che sette e in quei giorni non ho fatto praticamente nulla però ieri per esempio sono tornato ieri no l'altro ieri scusate ho fatto due giorni di fila l'altro ieri sono tornato l'altro ieri una giornata stupenda il 20 e sole faceva pure caldo e stava benissimo modo migliore per ricominciare non c'era e ieri invece era brutto tempo ieri ho fatto anche in realtà un tipo di allenamento diverso solitamente lo sapete quando vado a mare lo vedete perché ci sono i contenuti che lo testimoniano agivo sempre nello stesso identico modo corsa 20 minuti di corsa mezz'ora di corsa sempre bene o male allo stesso ritmo comunque sostenuto piccola pausa 30 secondi dell'espirazione e riparte e basta invece ieri ho deciso di alzare i carichi di lavoro e di ridurre i tempi quindi ho fatto degli scatti belli potenti la classica resistenza non so se l'avete mai mai fatta in cui pochissimi 5 secondi e fai uno scatto lungo non lo so 10 metri 15 metri e 5 secondi e riparti ma lo scatto più potente che riesci a fare stamattina ragazzi non ce la faccio manco ammette ma sta seduto perché i muscoli giustamente non ho preso manco un goccio di latte ancora me se sta a fredda su questo canale c'avevo intenzione di riportare formula 1 perché me lo avete chiesto in tantissimi diceva come dovevi allentare carichi di lavoro adesso è rimasto fermo un bel po da quando è che non porto formula 1 mi richiede tanto tempo in realtà formula 1 tra registrazione editing e via dicendo però avrei intenzione di riportarlo di farvi questo regalo anche perché ci ho investito parecchio con l'attrezzatura che ho preso no la poltrona da gaming chiamiamola così in realtà il sedile proprio il volante il gioco quindi anche per quello no non c'ho più giocato tra l'altro quindi potrei portare avanti questa questa carriera mi farebbe piacere fatemi sapere se la cosa vi stuzzica e torneranno anche altri contenuti su questo canale ripeto non un contenuto al giorno ma magari ne so un video a settimana due video a settimana piano piano va contento e ve riporto tutto quello che che portavo solitamente anche gli acquisti del gabon lo svuota la spesa vi dico già che ne ho registrato uno che uscirà a breve quindi quelli svuota la spesa non mancheranno mai e insomma piano piano questo canale tornerà ad essere sto video pubblico precedente l'ultimo che ho pubblicato come pare una decina di giorni fa e quindi vi ripeto ho preso proprio una pausa di quelle ma ce ne avevo tanto tanto bisogno il giorno che riuscirò a prendermi una pausa e a staccare completamente dai social un giorno due giorni tre giorni una settimana avrò ottenuto uno degli obiettivi più grandi della mia vita non ci riesco a farlo non ci riesco proprio non è da me io se per me è lavoro questo lavoro così no stare un giorno completamente lo potrei fare chi me lo pieta dire un giorno no oggi non faccio nulla non faccio manco un video il telefono lo potrei fare non lo faccio perché mi sento in colpa con me stesso dico oggi non sto lavorando ma che stai a fa cialtrone vai a lavorare quindi non lo faccio male però ecco bevo eh assaggio eh ma io già lo so che il latte con sta tazza è molto più buono proprio il bordo che si appoggia sulle labbra è un qualcosa di meglio le labbra che si appoggiano sul bordo mamma mia ragazzi questa è proprio la vera tazza di buongiorno un cazzo tanto potete cercare quanto ve pare su amazon ce ne stanno altre ma questa non la trovate e ok allora detto questo volevo dire qualche altra cosa ne sono scordato al limite va a giorno pappagalli tutto a posto comunque non so più due sono diventati tre un giorno ve lo farò sto video in cui vi spiegherò anche tutto quello che è successo perché è una cosa che se voi dico non ce credete eh no chi se ne intende di pappagalli ci potrebbe anche credere in realtà non è che dico cazzate è una cosa che è accaduta ci stanno i testimoni qua poi magari vi spiegherò anche quello e niente oggi vedo come il tempo è una giornata abbastanza bruttina in realtà stanotte ha piovuto e vedo se è piovuto vedo se riesco ad andare al mare anche perché con la piovuta che ha fatto insomma secondo me il tempo non è dei migliori però vorrei allenarmi anche oggi perché poi domani mi vanno a fare i capelli e è 23 e non credo che domani riesco poi 24 25 26 fa una lira perché ovviamente ci stanno le feste e vabbè vediamo vi aggiorno su instagram vi ringrazio per la visione mi piace commentate condividete iscrivetevi a tutti i canali sociali in descrizione contenuti consigliati sono tornato merde alla prossima con un nuovo video ciao belli